L'arresto del richiedente asilo di Campobasso dimostra come tra i flussi di migranti arrivati sul territorio nazionale si nascondano dei terroristi. Il ministro Alfano insieme a tutto il governo hanno sempre negato che tra i clandestini ci potessero essere dei terroristi. Così non è, lo dimostrano i dati di fatto. Un ministro che per una bieca propaganda politica mette a rischio la sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio il procuratore capo di Campobasso, ringrazio la Digoz di Campobasso che non solo contrasta il terrorismo internazionale ma anche contrasta con azioni concrete le politiche nefaste di questo governo.